Le spingolipidosi sono malattie ereditarie, particolarmente frequenti in determinati gruppi etnici, caratterizzate dal sovraccarico di spingolipidi, secondarie al deficit di un enzima lisosomiale variabile secondo la malattia, per cui il lipide complesso non può essere degradato e si accumula negli isosomi. Gli spingolipidi sono composti lipidici aventi in comune una amina primaria, la spingosina. L'unione della spingosina con un acido grasso dà una ceramide. La combinazione di una ceramide ed il radicale fosforicolina dà una spingomielina, fosfolipide. E la combinazione con uno o più esosi dà un cerebroside. L'esterificazione con acido solforico con un cerebroside dà un sulfatide. La combinazione di uno o più esosi di un cerebroside con acido sialico dà un ganglioside. Come la maggior parte della malattia lisosomiale, le manifestazioni cliniche compaiono dopo un certo periodo dalla nascita, anche se l'accumulo della sostanza anomala può essere già presente nel periodo fetale, perché la sofferenza cellulare diventa manifesta solo quando questo accumulo ha raggiunto una certa consistenza. Di ciascuna malattia si conoscono più varianti, con forme ad inizio precoce ed evoluzione rapida e forme ad inizio più tardivo ed è corso prolungato. L'interessamento scheletrico è molto frequente nelle cerebrosidosi, un po' meno nelle ceramidosi, sfingomielinosi, sulfatidosi e gangliosidosi. In tutte queste malattie l'osso può tuttavia presentare alterazioni radiologiche, che senza essere patognomoniche possono apparire sufficientemente caratteristiche.